Benvenuti a Terra Madre, ovviamente Terra Madre è anche birre artigianali e siamo qui con Giuseppe di Birrificio GILAC. Cosa significa per un birrificio come il vostro essere maestro del gusto? Noi siamo maestri del gusto da otto edizioni. Teniamo molto questa onoreficenza perché riteniamo che sia un simbolo di qualità, di accuratezza nelle lavorazioni, di ricerca anche di una maggiore attenzione all'ambiente e riteniamo che tutto questo ci rappresenti e per questo siamo felici di essere maestri del gusto. Cosa significa per voi oggi birrificio artigianale produrre birra in provincia di Torino? Significa cercare di mettere un po' di territorialità in un prodotto che non ha di per sé territorialità ma faccio un esempio, noi produciamo una birra, un Italian grape ale, quindi una birra con mosto di moscato, la nostra divina, nella quale usiamo un eccellente mosto di moscato piemontese. In questo modo riusciamo a portare un po' di territorio nel nostro prodotto. Perfetto, ti ringrazio e buona terra madre. Grazie, grazie molto.